Benvenuti, benvenute, ciao a tutti, oggi vediamo la GoPro 9 da un punto di vista di un cicloveggiatore di lunga distanza I cicloveggiatore tendono a utilizzare molto le action cam perché sono molto pratiche e comode da portarci dietro nel viaggio e da una settimana è uscita la GoPro 9 e quindi andiamo a vedere quali sono i pro e i contro di questo prodotto e quindi andremo a rispondere alla domanda mi conviene comprare la GoPro 9 o no? se volete una risposta subito senza guardare il video vi dico di no se siete nuovi in questo canale mi chiamo Davide Travelli dal 2015 sto facendo il giro del mondo in bici e su questo canale trovate recensioni di materiale che mi portano alla mia avventura materiale da campeggio, materiale della bici, in questo caso la GoPro e anche video del mio viaggio in giro per il mondo quindi vediamo esattamente un po' cosa c'è nella scatola prima di tutto vediamo alcune caratteristiche visto che sono riassunte qua sulla scatola c'è un sensore da 20 megapixel la risoluzione video è di 5k a 30 frame al secondo 4k a 60 frame al secondo e in HD quindi a 240 frame al secondo è impermeabile fino a 10 metri vediamo poi c'è la stabilizzazione l'hyperlapse 3.0 può fare delle foto in formato RAW e si può utilizzare come webcam e fare live streaming in HD allora apriamo la scatola prima di tutto il marketing della GoPro si sono... si sono... hanno voluto pompare il fatto che la scatola è eco-friendly perché non ha materiale plastico non ha materiale plastico però ha questa... ha questo case, questa scatola che secondo me è inutile è fatta comunque in materiale sintetico quindi plastica e ha queste pareti molto spesse quindi dentro secondo me c'è del materiale plastico e è abbastanza inutile secondo me all'interno troviamo un po' di manualistica di istruzioni troviamo la nostra GoPro troviamo il cavo USB di tipo C vecchio non è il 3.0 ma è vecchio quindi hanno voluto risparmiare quest'anno anche sul cavo c'è la batteria e poi ci sono il... un mount e questo è il mount curvo prima mettevano anche quello... quello piatto e non so perché hanno fatto questa scelta questo è carta e vi faccio vedere perché è inutile questo... questo case allora se noi andiamo a mettere queste quattro cose all'interno della confazione vedete? bastava anche una... una sacca secondo me dovevano metterlo in una scatola di plastica reciclabile con dentro un piccolo sacchettino questa va all'interno della camera quindi non occupa nessuno spazio quindi capite bene che questo è tutto da buttare siccome questa scatola è pesante nessuno mai la porterà in bici anche perché a meno che non avete delle esigenze particolari ma è veramente troppo grande troppo rigida e troppo pesante da portarsi dietro in bici ho visto delle recensioni subito il mercoledì della settimana scorsa quando è uscita questa... questa GoPro e ho visto delle recensioni non ho guardato delle recensioni in italiano erano tutte in inglese però tutti i recensori non hanno parlato molto dei difetti di questo prodotto ma ne ha molti quindi adesso andremo a vedere sia i pro e i contro presumo che le persone che hanno ricevuto questa camera dalla GoPro non volevano parlarne male perché comunque ricevano anche se non vengono pagati e non ricevono la GoPro ma la ricevono solo per fare la recensione e poi la devono rimandare indietro comunque penso che queste persone non volevano comunque compromettere il loro rapporto con la GoPro se no un altro anno non gli manda le camere in anticipo la macchina fotografica, l'action cam in anticipo dal punto di vista fisico è molto più grande delle vecchie GoPro soprattutto se la compariamo con la GoPro 7 per esempio è un po' più grande della GoPro 8 ma neanche più di tanto e anche facendo la comparazione il raffronto con la... tra la GoPro 7 e la GoPro 9 non c'è questa grande differenza perché è vero che la... la GoPro 7 è molto più piccola ma la GoPro 7 non aveva questo sistema per... per fare il mounting su... sui accessori o sui tripod o dovunque quindi doveva... veniva venduta con una... con una gabbietta e se la mettete all'interno della gabbietta e la confrontate con la GoPro 9 praticamente le misure sono... sono uguali adesso ve lo faccio... ve lo farò vedere monterò una clip all'interno della... di... all'interno così potete vedere esattamente quello di cui sto parlando dal punto di vista fisico ha sempre quelle... quelle finiture un po' diciamo... gommose davanti e dietro però purtroppo non... non sui lati ma sui lati c'è della plastica dura che sembra proprio plastica economica che è sicuramente facile anche graffiare e questa cosa qua non... non mi piace molto ha sempre il... il pulsante abbastanza grosso sopra per fare il... per accenderla velocemente il pulsante di accensione e spegnimento e di... e per circolare... per... per passare da un... da un modo all'altro questo non... non ha uno sportellino che si apre e... una volta qui c'era... lo sportellino per... per caricare la batteria... per... per mettere il cavo per ricaricare la... la... la batteria o anche per connetterlo al... al pc e il cavo... l'HDMI invece questo qua non è uno sportellino ma sono delle fenditure dove c'è il microfono per far... per far scorrere l'acqua velocemente quindi dovrebbe aumentare la qualità del microfono quando voi immergete la... la macchina fotografica nell'acqua la togliete dovrebbe... defluire molto velocemente l'acqua e quindi il microfono dovrebbe essere di una buona qualità o io non vado a fare questa prova però l'ho vista fare da altre persone che hanno messo sia la GoPro 9 che la GoPro 8 in una bacinella d'acqua l'hanno tolta, hanno fatto le prove o anche con la GoPro 7 e... secondo me non c'è nessun miglioramento poi magari può essere un problema software che risolveranno col tempo però per me al momento non... non c'è nessun... nessun... miglioramento da questo punto di vista c'è un display molto più grande eh... dietro più grande... un po' più grande non è grandissimo ci sono sempre eh... delle bande di... c'è sempre una cornice abbastanza... abbastanza grande quindi potevano eventualmente farlo anche più grande c'è un display eh... frontale che vediamo poi ma è eh... diverso dai display che c'erano una volta e si è ritornati alle... alle... si può... si può cambiare eh... la copertura delle lenti quindi questo vetro si può sostituire dovesse graffiarsi mentre con la GoPro... e questo si poteva fare con tutte le GoPro praticamente la 4, la 5, la 6, la 7 non si poteva fare con la GoPro del... dell'anno scorso infatti un sacco di gente si è lamentata e forse anche per questo l'hanno cambiato quindi adesso vediamo un po' quelli che sono i pro e i contro e poi per aiutarvi a fare la vostra scelta allora abbiamo detto che la risoluzione è 5K a 30 frame al secondo 4K a 60 frame al secondo e in HD 240 frame al secondo c'è da dire che però come cicloviaggiatori è molto difficile soprattutto di lunga durata è molto difficile che utilizzeremo questa... questa... questa action cam, questa GoPro a delle risoluzioni molto alte perché? perché quando andiamo a registrare in 4K o in 5K la dimensione dei file che escono è mostruosa quindi se voi fate un viaggio di sei mesi, un anno, due anni, cinque anni è veramente difficile se non impossibile gestire la quantità di dati quindi dovrete avere un sacco di hard disk esterni da portarvi indietro da riempire continuamente anche perché calcolate che con... con... in 5K in un minuto avete già un video da un giga e mezzo a parte il fatto che dovremmo portarci dietro un sacco di hard disk esterni per gestire file così grandi e nel giro di sei mesi, di un anno avreste non so quanti terabyte di dati da... da dover immagazzinare e gestire c'è anche il problema di editare i video quindi di... 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 di processare questi dati ci vogliono computer veramente potenti per gestire questi... questi file in 5... in 5K, in 4K vi faccio un esempio io ho un... ho un laptop abbastanza vecchio che però va bene per fare i video in HD ma non riesco neanche a editare i video in HD e esportarli in... in 4K quindi sarebbe per me impossibile gestire 4K e... eh... sicuramente ingestibili i 5K quindi se ci focalizziamo sulla qualità dell'HD e facciamo una comparazione dei video e ne ho visti molti in... in internet li potete cercare... li... li trovate su YouTube eh... queste comparazioni la qualità tra... tra GoPro 7, GoPro 8 e GoPro 9 in HD è praticamente identica quello che cambia sono i colori eh... sono i colori GoPro perché quando noi andiamo a registrare possiamo scegliere il profilo flat, piatto o il profilo GoPro il profilo piatto, flat, eh... ci dà dei colori molto neutri che però poi quando andiamo a editare i video dobbiamo... dobbiamo riportare il colore all'interno delle... delle nostre clip e quindi bisogna... prima di tutto bisogna saperlo farlo e poi comunque porta via molto tempo siccome siamo in viaggio quando ci fermiamo due o tre giorni a casa di qualcuno che ci ospita eh... non è che vogliamo passare tre giorni per... eh... per editare due video già eh... ci si mette un sacco di tempo di suo quindi dobbiamo cercare di ridurre al minimo il lavoro che dobbiamo fare quindi se c'è qualcosa che possiamo ridurre almeno... almeno quello quindi la maggior parte delle persone registra i video con il colore GoPro che non ha dei colori stupendi perché ha sempre dei colori un po' strani quei cieli proprio azzurri, azzurri ha dei colori un po' strani però ad alcuni piace e ad altri no io mi sono abituato eh... e c'è leggermente differente in questa scienza dei colori tra la GoPro 7, la GoPro 8 e la GoPro 9 ma in termini di qualità eh... in senso lato è praticamente la stessa quello che non mi piace della GoPro ma non della GoPro 9 della GoPro in generale è che eh... praticamente è un caso di manuale di eh... obsolenza programmata eh... ci sono un sacco di cose che mi piacciono allora ci sono un sacco di cose che non mi piacciono e un sacco di cose che mi piacciono che hanno aggiunto a questa GoPro 9 la maggior parte delle cose che hanno aggiunto che mi piacciono non sono hardware non... non sono fisiche ma sono delle aggiunte software che potevano aggiungere anche ai modelli precedenti al... al... al modello 8 al modello 7 al modello 6 al modello 5 però decidono di non farlo così tu sei obbligato a comprare una... una GoPro nuova praticamente tutti gli anni almeno nelle loro intenzioni vorrebbero che tu la comprassi tutti gli anni eh... cambiassi le batterie tutti gli anni si inventano sempre qualcosa di diverso e eh... questa cosa qua secondo me non... non dovrebbe esistere perché comunque si crea un sacco di rifiuti per il mondo batterie, scatole, milioni di queste scatole inutili eh... un sacco di... di minerali rari di... di metalli rari e preziosi che vengono utilizzati per costruire questi... questi materiali elettronici per le batterie e siccome il nostro mondo contiene una quantità finita di risorse non possiamo comunque sempre eh... pensare a un... a uno sviluppo eh... infinito e quindi anche le... le società, le... le imprese dovrebbero... non dovrebbero rincorrere un... un incremento infinito sempre e questa cosa non dovrebbe neanche avere un impatto negativo sui profitti di una società come GoPro perché se loro venissero a dirmi guarda... tu compra la camera oggi quest'anno e eh... per... che ne so... quattro anni, cinque anni noi andremo comunque a... a darti degli aggiornamenti e ci devi pagare un software ogni anno ci devi pagare venti euro, trenta euro per il software va bene, te lo pago, preferisco darti trenta euro tutti gli anni ma non farmi comprare una macchina fotografica tutti gli anni e... comunque loro risparmierebbero perché non devono produrre la macchina... la... una... una GoPro tutti gli anni non devono eh... non hanno costi di marketing per... per un nuovo prodotto sempre non hanno costi di packaging cioè risparmierebbero un sacco... cioè... secondo me guadagnerebbero di più se tutti i... quelli che hanno comprato la GoPro 5, 6 e 7 pagassero trenta euro quest'anno dei... dei profitti che faranno con la GoPro 9 la killer feature della GoPro 9 è sicuramente il... il display frontale che adesso fa vedere esattamente quello che la... la GoPro sta riprendendo e... è molto utile perché se registro... sto facendo un video posso vedere esattamente eh... il frame e... e non rischio di tagliarmi la testa tagliare un... un... un pezzo di... di... di quello che volevo mostrare nel video funzionano tutti e due insieme e eh... non c'è nessun lag perché hanno fatto la scelta di ehm... di ehm... di ehm... di usare un display con una... con una... con una risoluzione... con un frame al secondo molto basso eh... quindi nel... diciamo che nel... se registrate in HD non... è abbastanza buono ha un frame rate abbastanza alto e quindi non... non si nota niente se registrate in 4K o in 5K non c'è lag però ehm... lo vedrete un po'... un po' a scatti però comunque è usabilissimo da questo punto di vista non mi sento di... di lamentarmi con la GoPro perché mi sembra che abbiano fatto un buon lavoro con l'implementazione di... di questo display frontale mentre sulla... sulla... sulla DJI Osmo Action praticamente o... usate quello frontale o quello posteriore quindi con un pulsante bisogna sempre passare da uno all'altro in questo caso mi sembra che la GoPro ha fatto veramente un buon lavoro le stabilizzazioni dei video sono arrivati a... a... a livelli veramente buoni per quanto riguarda l'Hypersmooth che è il nome della stabilizzazione della GoPro è arrivata adesso al... al 3.0 diciamo che io ho guardato e riguardato un sacco di video dove c'è la GoPro 8 e la GoPro 9 a confronto e nonostante i primi recensori che avevano ricevuto dalla camera della GoPro dicevano vedete che è molto meglio della GoPro 8 sinceramente io l'ho guardato e riguardato e ho chiesto anche ad altre persone e non... praticamente non ho visto nessuna differenza quindi secondo me è... è tutto marketing quello che hanno introdotto a livello software e a livello di stabilizzazione è... è mantenere l'orizzonte livellato cosa vuol dire? vuol dire che se io faccio un video e inclino la camera il video rimane comunque orizzontale è come se ci fosse una livella è come se fosse su un gimbal e... l'unico problema è che funziona solo nella... nella modalità linear nel linear mode e il linear mode è quella modalità che ha un campo visivo un po' più stretto è esattamente quello che... che state vedendo adesso non ha un... non è un grand'angolo non è un... un wide ehm... ci sarà una lente da applicare eh... di ricambio diciamo che si chiama eh... max mode che ehm... che darà la possibilità di avere questa... questa livella all'orizzonte anche eh... con un grand'angolo però eh... quello è un accessorio che costa eh... cento euro sicuramente è una cosa che... che farà molto piacere a chi va... va in moto perché si piegano... si piegano di più per... per l'uso che ne facciamo noi ciclovelizzatori secondo me questa è una cosa che... meh con questo max mode con questa lente max come la chiamano avrete la possibilità di... di avere questo... un grand'angolo ancora maggiorato rispetto alla lente che viene con... con la vostra GoPro ma avrete anche la possibilità di attivare questa livella all'orizzonte e quindi girare completamente la camera mentre il video quando fate il playback quando lo guardate rimarrà sempre comunque orizzontale sicuramente questa secondo me non è una cosa che... che serve a noi ciclovelizzatori quindi lascia un po' il tempo che trova per quanto riguarda la stabilizzazione c'è anche una... una nuova funzione nel... nella modalità eh... time wrap dove c'è... dove praticamente fa l'hyperlapse ehm... dove all'interno del nostro hyperlapse possiamo schiazzare il polso... il... il pulsante eh... laterale o un pulsante sul display ehm... sul display posteriore e il video si rallenta a eh... a velocità normale e registra anche l'audio quindi noi possiamo... che ne so... stiamo facendo un... un time wrap e... però vogliamo commentare qualcosa abbiamo visto qualcosa schiacciamo il pulsante e diciamo quello che dobbiamo dire commentiamo schiacciamo il pulsante un'altra volta e il... il time wrap eh... ricomincia sempre a velocità accelerata la stessa funzione si può fare selezionando al posto di eh... velocità normale in eh... in slow mo quindi possiamo passare da... una velocità accelerata a slow mo e poi riprendere quindi fa questo... questo speed ramp eh... può essere utile per ehm... per fare time wrap più creativi può essere molto utile quando siamo in giro in bici perché a me è capitato molte volte di eh... di fare un... un time wrap e però volevo... comunque ho visto qualcosa era successo qualcosa allora dovevo comunque fare una pausa nel time wrap eh... fare un video normale e riprendere il time wrap mentre invece questo... questo si fa tutto... è un file... ci rimane un file unico tutto pulito non... non... non si perde tempo l'unica cosa è che quando eh... mi piacerebbe che quando si schiacciasse il pulsante laterale facesse un bip per avvisarci che ha registrato questo... questo cambiamento perché se noi siamo in bici non... non... non stiamo vedendo lo schermo sia quello dietro che quello davanti quindi a volte mi è capitato di schiacciare e non aveva registrato il... probabilmente non... sai quando vai in bici non è che stai lì quindi magari... ho schiacciato... non ho schiacciato con forza io però comunque non era... non aveva registrato il... il mio tocco e non... quindi quello che ho detto non... non è... non è stato registrato and this is the feature that slows down to real time the... timer up and record the audio as well anche il display dietro è stato rinnovato nel senso che è un po' più grande di quello della GoPro 8 e della GoPro 7 ha sempre comunque delle cornici abbastanza... abbastanza pronunciate quindi avrebbero potuto farlo anche un po' più... un più grande ma c'è da dire che... come tutti i display touch della... della GoPro ha un sacco di problemi nel senso che a volte tu premi e non succede niente e... spero che lo risolvano piano piano con il software ma dato l'esperienza che ho avuto con la GoPro 4 che avevo il touch screen... avevo il touch screen che si infilava e con la GoPro 7... sinceramente non ho queste grosse speranze diciamo che questo è un problema che... soprattutto d'estate quando la camera inizia a scaldarsi un po' diventa ancora più prominente quindi tu a volte schiacci perché ti serve una funzione e non succede niente può essere abbastanza frustrante e sicuramente questa è una cosa negativa che in verità vale per la GoPro 9 ma vale per la GoPro 8, 7... praticamente per tutti hanno aumentato la quantità di pixel del sensore da 13, 12 o 13 che era prima a 20 quindi diciamo che le... adesso anche le foto sono di maggiore qualità non aspettatevi ste... ste grandi miracoli diciamo che... probabilmente non fa foto migliori di un... di un iPhone di nuova generazione e... è migliorato nelle foto notturne però anche lì non... non aspettatevi le foto come il... il telefono della... il Google Pixel quindi quei miracoli di foto notturne la cosa bella delle foto è che possiamo fare foto anche in formato RAW quindi cosa vuol dire che nel... nel file che viene salvato vengono salvati due file, uno in JPEG e l'altro in RAW con il... con il file in formato RAW possiamo aprirlo con Photoshop con Lightroom o altri programmi di editing delle foto e possiamo sviluppare la foto in maniera eh... molto più profonda che potremmo fare con il JPEG ci sono altre migliorie software che mi piacciono molto e che sicuramente eh... mi piacerebbe vedere comunque anche nel... nel modello 8, 7 e... 6, 5 secondo me sono... dalla 5 alla... alla 9 dovrebbero avere tutte queste funzioni software che però hanno riservato solo per la 9 e questo sinceramente mi fa girare un po' le scatole perché sono funzioni molto semplici che non hanno bisogno di un hardware nuovo una per esempio è il timer nelle... nelle vecchie GoPro non c'era il timer mentre adesso c'è un timer quindi noi possiamo mettere un timer di 3 secondi o 10 secondi è utilissimo per le foto, per chi vuole farsi i selfie, ma anche per i video un altro setting utile è il fatto che si può regolare la durata allora con la GoPro avevano introdotto il... il... la scelta della durata quindi si poteva scegliere 15 o 30 secondi con la GoPro 9 diciamo che è... c'è una gamma di durate molto più... molto più ampia su cui... tra cui possiamo scegliere quindi abbiamo 15, 30 secondi, abbiamo un minuto, abbiamo 5 minuti, abbiamo 10 minuti 15, 30, 1 ora, 2 ore, 3 ore quindi diciamo che può essere molto utile in... in varie situazioni per farci... per non farci sprecare batteria e comunque anche grandezza dei file bene adesso passiamo alle cose negative, alle cose che non mi piacciono le cose che non funzionano su questa GoPro 9 la prima cosa che non funziona è il prezzo questa GoPro costa veramente eh... tanto perché di listino viene 480 euro è vero che sul sito della GoPro quindi su Amazon tipo la trovate a 480 euro 479,99 se non sbaglio e... in questo formato, in questa scatola poi eh... se andate sul sito della GoPro è vero che costa 100 euro in meno però eh... però c'è un però prima di tutto tante persone dall'Europa non sono riuscite ad acquistare sul sito della GoPro perché non... non accettava il pagamento quindi eh... non so se è un problema che risolveranno però adesso è già eh... più di una settimana il problema eh... rimane secondo questo sconto è comunque legato al fatto che state acquistando anche un abbonamento a... a GoPro questo abbonamento vi dà diritto a questo sconto di 100 euro però quando andate a leggere le... diciamo le clausole dice che se voi cancellate questo eh... abbonamento prima della fine dello scadere dell'anno e... pagate comunque il totale dell'abbonamento che sono 50 euro se non sbaglio e... la GoPro vi comunque eh... vi farà pagare i 100 euro che vi ha scontato ehm... all'acquisto quindi non ho ben capito cosa succede perché se poi dopo un anno eh... non... non ho ben capito cosa succede perché se voi cancellate questo abbonamento il giorno prima che scade vi fanno pagare comunque 100 euro in più se lo cancellate il... il giorno che... che si rinnova e se già rinnovato il... l'abbonamento per l'anno successivo ve li ridanno i 50 euro eh... questo sinceramente è un... un po' strano come... come politica e... potevano farla un po' meglio un'altra cosa che sicuramente eh... non mi piace di questa camera è che ha un sistema di anti flickering dove possiamo scegliere i 50 hertz o 60 hertz a cosa serve questo? siccome eh... se facciamo delle riprese ehm... all'interno di un... di un'abitazione o anche che ne so in un centro commerciale o dove ci sono tante luci accese quindi verso sera la notte eh... l'elettricità non è eh... l'elettricità alternata non è... non è come quella continua ma è praticamente la luce si accende e si spegne continuamente siccome si accende e si spegne eh... frequentemente eh... molto velocemente diciamo il nostro occhio quando accendiamo una lampadina eh... la percepiamo sempre accesa ma in verità si accende e si spegne eh... 50-60 volte al secondo e questo dipende se siamo in Nord America o in Africa eh... o siamo in Europa in Europa il nostro sistema è 60 hertz eh... per la frequenza della... della corrente alternata mentre in Nord America per esempio è 50 hertz allora per... per fare in modo che noi registriamo un video e non si veda questo... questo farfallio delle luci la GoPro ci fa scegliere tra... ci dà la possibilità di scegliere tra 50 e 60 hertz la cosa negativa è che la GoPro ha unito il sistema di anti flickering con la scelta del del frame rate eh... dei nostri video quindi per esempio se vogliamo fare una... una... uno slomo quindi se vogliamo rallentare il nostro video in HD non possiamo farlo a 240 eh... frame al secondo se scegliamo l'anti flickering a 60 hertz dell'Europa ma scende... ma scende a eh... 200... così non possiamo eh... selezionare alcuni frame rate per esempio non c'è 30 ma c'è 25 non possiamo usare 60 ma dobbiamo usare 50 quindi secondo me è assurdo capisco che questo eh... deriva dal fatto che in... 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 in Europa eh... si utilizzava una volta il sistema... si utilizza il sistema PAL per la trasmissione audiovisiva però ehm... e ha delle... e ha delle... e ha delle... dei... dei frame rate diversi da quello che utilizzano in altre parti del mondo però unire eh... l'elettricità con il sistema eh... televisivo non ha senso anche perché con le televisioni digitali che abbiamo tutti in casa non ha più senso questa distinzione eh... quindi eh... è proprio assurdo che eh... gopro abbia fatta questa scelta un'altra cosa che non mi piace molto è il fatto che ci sia una batteria nuova che è molto più grande di rispetto a... a quella vecchia come potete vedere e quindi se noi abbiamo una gopro vecchia eh... dobbiamo buttare tutte... tutte le batterie si crea un sacco di rifiuti la gopro dice che la... la batteria eh... nuova dura molto di più perché ha una capacità molto più grande il problema è che non è vero eh... io ho fatto diverse prove anche solo accendendo la... 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 la gopro 9 e accendendo la gopro 7 con questa batteria che è una batteria che uso da due anni e la gopro 9 con la batteria nuova la... la gopro 7 ha comunque una durata tra il 6 e l'8% in più e ho testato diversi modi ho anche eh... ho anche acceso il... diciamo... ho messo a registrare un video in HD a 24 frame al secondo con tutti i settaggi uguali sulle due camere e la gopro 7 ha registrato per due ore e 16 minuti mentre la... la gopro 9 ha registrato per due ore e 6 minuti quindi la gopro 7 ha registrato per eh... ben dieci minuti in più sempre considerate che è una batteria che uso da due anni mentre questa è nuova quindi diciamo che magari nel tempo con qualche... con il firmware... con miglioramenti di firmware eh... aumenteranno un po' la... la durata delle batterie però non è vero che la batteria dura di più associata alla batteria eh... c'è anche il fatto che questa gopro 9 scalda eh... scalda un casino e mettendo eh... a fianco a fianco la gopro 7 e la gopro 9 e l'ho utilizzata per un po' anche solo... come vi ho detto anche solo lasciandola accesa non facendo niente dopo dieci minuti andando a toccare la gopro 7 e andando a toccare la gopro 9 secondo me la temperatura eh... non ho misurata eh... non ho misurata quindi non è una... non è un test scientifico ma mi sembra che la... la gopro eh... 9 abbia una temperatura eh... di molto molto superiore eh... iniziava già a scottare dopo dieci minuti eh... senza fare niente poi quando l'ho... l'ho messa a registrare il video per più di due ore quindi far scaricare tutta la batteria toccando la... la gopro... 9 sembrava che le... il calore fosse il doppio della gopro 7 veramente mi preoccupa molto questa cosa anche perché sono giornate che non sono molto... molto calde non è stata fatta al sole ma è stata fatta al... all'interno della casa all'ombra queste prove quindi mi... ho paura di quello che potrebbe succedere utilizzando questa... questa gopro 9 in posti tipo attraversare il deserto in sud del Sahara, in Sudan, in Egitto magari a maggio quando becchi temperature che superano i 48 gradi arrivano a 50-51 gradi con i prossimi firmware spero che migliorino il software di molto perché la... la camera eh... molte volte si impazzisce non... non risponde più ai comandi e... praticamente smette di funzionare si... si congela... è... è calda ma diciamo che si congela lo schermo perché non funziona più né quello davanti né quello dietro potete schiacciare tutti i pulsanti e non succede niente l'unica cosa è quella di aprire il vanno della batteria rimuovere la batteria rimettere la batteria e riaccenderla il problema qual è? è che facendo questo e... poi ho riscontrato che i video che stavo registrando erano tutti persi i file erano corrotti quindi diciamo che se voi vi mettete a registrare un video di qualche minuto va bene ma se voi state registrando un qualcosa che è unico una memoria che non... non si ripeterà più e vi si... vi si congela... vi si impalla la GoPro e perdete tutto e... girano le scatole se magari state facendo un'intervista a qualcuno o state... cioè ci sono momenti unici che non... non si può fare mettiamo che registrate un'intervista a una persona per mezz'ora, un'ora e... e magari verso la fine si impalla e avete perso tutto il lavoro questi sono... sono problemi veramente grossi che dovrebbero farvi pensare se comprare questa... questa camera o no la camera tende a impallarsi anche quando andiamo a caricare la batteria ma... diverse volte ho aperto lo sportellino collegato il cavo per ricaricare la batteria e... adesso non so quanto ci mette esattamente a caricarsi la batteria però penso che in un'ora e mezza dovrebbe caricarsi a volte vedi che dopo due ore ancora c'è il led rosso acceso di carica dopo tre ore ancora lì allora dici vabbè sei impallata infatti stacchi il cavo e non succede niente i led sono sempre rossi come se stesse caricando schiacci tutti i pulsanti non funzionano quindi devi togliere la batteria, rimetterla e... e sperare che funzioni come prima quindi diciamo che GoPro deve risolvere ancora tanti problemi con il software di questo modello per quanto riguarda la batteria parliamo anche del vano batteria sui modelli vecchi tipo la GoPro 7 c'era uno sportellino da questa parte e lo sportellino sotto per la batteria e la memoria, la micro SD e lo sportellino dove mettere il cavo della batteria qui è tutto in uno hanno fatto questo sportello che è veramente difficile da aprire prima di tutto è questa plastica un plasticotto veramente di bassa qualità dove sicuramente guardate già ci sono dei graffi di io che cerco di aprire ma bisogna spingere in sotto e poi aprire è macchinoso quando vogliamo chiudere è altrettanto macchinoso bisogna spingere sotto perché a volte se no non è perfettamente chiuso e comunque se colleghiamo un cavo USB sia per caricare o per fare altro rimane aperto lo sportellino quindi sicuramente nel giro di qualche mese ci sarà qualche azienda che ci venderà uno sportellino con il buco però secondo me la GoPro poteva fare un design migliore e pensare meglio queste cose qua o comunque mettere uno sportellino con il buco già di suo nella scatola un'altra cosa pessima è l'implementazione che la GoPro sta facendo del codec HEVC che serve per le risoluzioni più alte sicuramente 5K e anche 4K sinceramente io ho un computer veramente vecchio però l'ho utilizzato anche su un computer di un amico con un computer nuovo di pacca da 3.000 euro e quando ho tentato di comunque riprodurre il video in 5K che avevo fatto con la GoPro si vedeva scatti era veramente difficile solo già da riprodurre immaginatevi editare un video di quel tipo con il vostro computer e stiamo parlando comunque come vi ho detto di un computer nuovo da 3.000 euro nuovo di pacca di un amico che me l'ha prestato per vedere per fare dei test per vedere un attimo com'era impensabile utilizzarlo sul mio vecchio laptop in giro quando viaggio bene questo è quanto ho detto un po' tutto quello che mi piace e quello che non mi piace c'è tanto che non mi piace mi rendo conto la cosa che mi piace di più di questa... della GoPro 9 è il fatto del display frontale che mi posso vedere quando parlo quando faccio i miei vlog penso che sia una funzione che verrà molto utile per il resto sinceramente non è che mi impressioni molto le altre nuove funzioni le altre risoluzioni secondo me non... per le persone che viaggiano come noi non servono e quello che mi sarebbe piaciuto vedere e che comunque apprezzerò molto sono la funzione del timer della durata e anche dell'accensione e dello spegnimento programmato per il resto... meh... quindi niente se avete una GoPro 4 sicuramente è tempo di fare l'upgrade anche se avete una GoPro 5 e 6 forse anche se avete quattro soldi da spendere farei l'upgrade però aspetterei qualche mese perché sicuramente il prezzo si abbasserà di molto se avete una GoPro 7... probabilmente no e se avete una GoPro 8 sicuramente meglio non... io fossi in voi non la comprerei la GoPro 9 e fra qualche mese penso da qua a Natale secondo me DJI uscirà sul mercato con la seconda generazione della... della Action Osmo o Osmo Action e sicuramente sarà molto interessante vedere cosa hanno... cosa hanno riservato per la... per la seconda generazione già la prima generazione di quella... per essere la prima generazione era veramente... era spettacolare secondo me non era ancora ai livelli della GoPro però per essere il primo prodotto era veramente valido sono veramente curioso di vedere cosa fa anche perché i prezzi della DJI saranno sicuramente molto più competitivi rispetto alla GoPro e sicuramente nel giro di qualche mese la GoPro dovrà abbassare i prezzi non solo sul suo sito ma anche sui... sui retailer come può essere Amazon sicuramente a 370-380 euro probabilmente la vedremo sempre verso... intorno ai 380 euro su... su Amazon e a 320-330 euro sul sito della GoPro probabilmente... però dipende sempre dai prezzi di DJI se li abbassano molto dovranno abbassarli anche loro questo è quanto spero che vi torni utile per fare la... la vostra scelta fatemi sapere cosa ne pensate e... niente... ci vediamo alla prossima... ah... lasciate un... se vi è stato utile mettete un like che... eh... aiuta... aiuta questo canale iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto se non vi è piaciuto il video due volte dislike e... ci vediamo alla prossima... ciao! ciao!